Ciao, benvenuto sul canale YouTube TrackPoint. Se non ti sei ancora iscritto, fallo ora per restare sempre aggiornato sulle scritte luminose e i video novità. Questa che stai vedendo è la scritta luminosa by TrackPoint a led ad alta luminosità, sfondo Bandiera Italia, Yuri con i laterali i due griffin, munita di interuttore acceso spento per fare bassa o alta luminosità. Le scritte luminose vengono realizzate a 12 o a 24 volt compresa accendisigari. Se ti stai chiedendo ma quanto mi costa, quanto tempo ci vuole, come posso richiedere di più ancora? Beh, chiama ora i numeri qui in sovraimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di WhatsApp. Sarà un piacere darti ulteriori informazioni per realizzare la tua scritta personalizzata. Se ti è piaciuto questo video metti il tuo mi piace, iscriviti ora al canale YouTube TrackPoint. Da Umberto di TrackPoint ci vediamo al prossimo video.